Ma come si respira correttamente? Il respiro è fondamentale per tutti, soprattutto per un attore. Quindi fai questo esercizio per scoprire come respiri. Metti una mano sulla pancia e una sul petto e fai un bel respiro. Se si alza la mano sulla pancia, significa che respiri correttamente, con il diaframma. Altrimenti vuol dire che stai respirando con le spalle. Se vuoi imparare ad utilizzare correttamente la tua voce, seguici per altri tips.